Non è affatto dispiaciuto. La Fiorentina crolla dopo essere passata in vantaggio a Craiova. È il gol di Daniel Bertoni, un altro argentino, in inizio di ripresa pareggia Unguriano al termine di questa prolungata azione in cui si comincia a denotare il vero assalto della squadra romena nei confronti della squadra della Fiorentina che subisce la pressione e subisce anche il raddoppio da parte di Sirtu. Poi ecco un calcio di punizione di Balaci, forse tocca Negrila.